Ciao a tutti dalla vostra Clara Mallegni. Oggi il 30 marzo 2020 vorrei condividere con voi una piccola opera su Pinocchio, tema Pinocchio. Come vedete sono vestita da grillo e quindi vorrei che voi facesse insieme a me un'opera dedicata a Pinocchio. Vedete la vostra tavolozza. Bello, in questo periodo, giusto in questi giorni, lo scorso H, io avevo un'esposizione nella sala del grillo a Collodi, ecco perché io amo molto vestibili da grillo, facciamo il nostro foglio e fattiamo con la nostra opera. Potete prendere i vostri colori preferiti. Scriviamo molto i colori. Grazie.